Il Real Sinise ferma il lavello e il rotonda ringrazia con il poker all'atronico con i gol di Sansone, Flores, Santa Maria e Le Piane, i lupi del Pollino si isolano in testa alla classifica in virtù del big match tra una settimana al Corona di Rio Nero contro la Vultur che potrebbe riaprire ogni discorso per la promozione in Serie D. Vultur che si è imposta a Lauria per 4-2, Scavone, Salvia, Petaggine e Disenso sono stati mattatori dell'ingontro del Rodolfo Mignone, quinta affermazione di fila esterna per la squadra allenata da Durso che adesso è davvero in corsa per un posto al sole. Tris dell'Ebrienza al Mondescaglioso ci pensano una doppietta di Costanzo e Sgovio ad alimentare le speranze dei Melandrini per un posto nella zona playoff, mentre al quinto posto in classifica si insedia per la prima volta in questo campionato il ripagandita che con lo stesso punteggio con i gol di Aruna, Grieco e Pietrecarra liquida il Castelluccio. Il Policoro cangella i tre K.O. consecutivi e sbanga Tolve con Bojang e Guida, mentre sono importanti i successi in chiave salvezza, del Pomarico che sbanga Melfi con Grittani e del Moliterno che al novantacinquesimo supera il Ferendina per una rete a zero, ha deciso calentirlo. Siamo con Gianluca Fortuna, allenatore in seconda del ripagandita che quest'oggi per via della squalifica di mister Cassi si è guidato la squadra dalla panchina. È arrivata un'altra importantissima vittoria, per usare un termine scherzoso possiamo dire questo ripagandita non si ferma più. Sì, oggi è arrivata una vittoria importante, con la vittoria di oggi siamo quindi in classifica a 39 punti, cercheremo di continuare su questa scia. A parte la vittoria abbiamo visto come sempre un gran gioco della squadra, palla a terra, gioco veloce, possiamo dire che questo è un collettivo che insieme è ben amalgamato? Sì, è d'agosto che la squadra sta, siamo tutti insieme, come sempre il lavoro paga, alla lunga paga e adesso si stanno vedendo i risultati. La squadra gioca bene, oggi abbiamo fatto una buona gara, ottimo approccio alla partita, e dopo il 2-0 la partita è andata e si è messa subito in discesa. Una striscia positiva dei risultati che dura da parecchie giornate proietta la squadra nelle zone medio-alte della classifica. Possiamo dire che questo ripagandita può anche usare qualcosa in più per arrivare ai play-off? Sì, adesso siamo quinti, siamo a si lunghezze dalla quarta che è il Brienza, adesso siamo lì e le ultime sette partite ce la giocheremo per cercare di raggiungere i play-off. Una piccola realtà come ripagandita, abbiamo visto anche quest'oggi una buona cornice di pubblico. come vive la città e soprattutto la simbiosi tra squadra e pubblico? Sì, il pubblico oggi c'era una buona cornice di pubblico, la città di ripagandita aiuta nel suo piccolo la squadra. Siamo con Daniele De Marco, allenatore della Castelluccia. Un suo giudizio personale sulla prestazione della sua squadra? Allora, una sconvitta 3-0, diciamo che molto netta, anche se poi è arrivata nei minuti finali. Però voglio anche far notare, non so se voi avete già notato, il Castelluccio ha giocato con ben 7 under, con il portiere 97 e con Borriello 99. Purtroppo dopo la rifinitura di ieri abbiamo perso 5 ragazzi perché tra di loro ci sono contagiati il virus e quindi sono dovuti rimanere a casa. Ho dovuto inventarmi più di qualche soluzione. Dopo 15 minuti si fa male Rubino e non lo so, sfiderei chiunque a fare una partita del genere chiudendo con 8 under. Mister, ha parlato di alcune defezioni importanti, ma secondo lei cosa non ha funzionato quest'oggi? Non è questione di cosa non ha funzionato. Una squadra che perde, Lautaro Garcia che è l'argentino che è il nostro faro insieme a De Simone. Non avendo Grasso, non avendo Milone che sono i centrali della difesa, perso anche Agrello. Non lo so, c'è poco da dire. Se voi guardate la Juniors del Castelluccio che è prima in classifica, questa è la formazione tolte tra i ragazzi. Quindi abbiamo giocato praticamente con la Juniors. Questo però non voglio dire che il Ripa Candida non sia una... Il Ripa Candida è un'ottima squadra, lo sta dimostrando con i risultati. Però per quanto mi riguarda il nostro camminato lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Ancora mancano diverse partite. L'obiettivo mio era quello di arrivare a 40-41 punti e siamo sulla strada giusta. Mister, a parte la sconvitta di oggi, però il Castelluccio per essere una matricola in questo campionato di eccellenza sicuramente ha disputato fin qui una buona stagione. Sì, noi a inizio stagione abbiamo programmato di fare una salvezza tranquilla. Siamo abbondantemente fuori dalla lotta play-out e anche retrocessione. Abbiamo costruito una squadra dove dovevano... Diciamo, l'ossatura centrale era quella che ci doveva garantire poi la giusta esperienza per poter mantenere la categoria. Abbiamo inserito dei ragazzi che stanno giocando continuamente domenica dopo domenica. e quindi diciamo che l'obiettivo ormai penso che sia arrivato. Adesso queste ultime partite cercherò di far ruotare ancora di più questi ragazzi, ma la cosa che invito poi ai ragazzi è che comunque devono metterci sempre più voglia e devono essere meno presuntuosi. Siamo con Michele Anastasia, presidente del Ripacandida. Presidente, quest'oggi un'altra larga vittoria che proietta il Ripacandida nelle zone alte della classifica. Un suo giudizio sulla prestazione odierna della sua squadra? Sì, oggi veramente mi è piaciuta tantissimo la squadra, è una bellissima prestazione. Una squadra che ha fatto bel gioco, siamo stati pericolosi tutto il primo tempo. Diciamo che forse il risultato ci sta anche un po' stretto, però va benissimo così. È stata una grande partita, fin qui anche una grande stagione per i Ripacandida. Una squadra costruita con un mix di esperienza e tanti giovani. Un collettivo fantastico che sicuramente continuerà a entusiasmare la piazza di Ripacandida, la piazza calcistica di Ripacandida. Sì, a questo punto siamo in gioco e continuiamo a giocare. La classifica ci sorride, abbiamo raggiunto il quinto posto, non siamo lontani dal quarto posto, quindi ci crediamo sicuramente per un buon finale di campionato. Mancano sette partite alla fine del campionato, possiamo dire che il Ripacandida è tra le nobili di questo girone? Sì, è un risultato che all'inizio nessuno ci avrebbe sperato. Siamo stati un accidente l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto un salto di qualità veramente importante. Contiamo di mantenere la posizione almeno tra i primi cinque posti, sarebbe un risultato eccellente per Ripacandida. Continua senza sosta la scalata verso l'eccellenza del paternicum, non risultato utile consecutivo per la squadra allenata da Ciriliano che travolge con una cinquina la Sant'Arcangiolese, apre Marchesano il quale sbaglia dopo pochi minuti anche un penalti però poi trasformato nella ripresa da Lungo per il 2-0, Lobosco-Faluella è un autogol di Arleo. Arrotondano il pundeggio in favore della capolista del torneo cadetto regionale. Prova a ravvivare questo torneo il Sangataldo che con un tris pieghe il milionico decidono un gol di Ditolwe e una doppietta di Sabato. Si fermano invece Oraziana Venosa battuto 1-0 dall'Atletico Rapone con Marolda e l'Elettra Marconia che non va oltre il 3-3 interno contro la pericolante Viribus Potenza. Si insedia invece nella zona play-off con un 2-0 a Mondalbano il Marmoplatano con Rota e Glorioso. Seconda vittoria consecutiva per la Raf Vejanum 2-1 allo Sporting Lavello con Gatta e Milano per gli ospiti in rete Lorusso che proietta la formazione di Albano a proiettarsi in zona salvezza quasi conquistata così come un ottimo successo in chiave permanenza è quello delle Banzi che all'inglese batte il Tito con il palco e un calcio di rigore di De Bonis. L'Opido supera l'Avigliano per 2-1 decidono Basilio e Paolucci mentre per gli aviglianesi accorcia Sant'Angelo sul rigore e permette agli altobradanici di agganciare l'avversario di turno al penultimo posto in classifica ravvivando così la corsa per la lotta per non retrocedere fino all'ultima di campionato. Grazie per la visione!